è curioso di vedere quando ci sono stati fatti questi biscotti frollini con cacao proveniente basilicata ottime frollini buon mattino moretti al cacao a luna di notte sull'autostrada salerno reggio e questo si inzippa dei patatini il veleno allo stato puro il mio amico non ha capito che qui in italia non lo possiamo curare se non sta bene dopo lo portiamo in qualche ospedale lo abbandoniamo lì in attesa delle notizie devo dire che siamo in attesa del mio amico Carmine dovrebbe arrivare con il suo mitico mezzo potentissimo lui dispone di un appunto e dovrebbe venire qui a portare i rinforzi cosiddetti e portare questa batteria che ci poi permetterà di arrivare fino a casa io direi di mettere fuori il bigliardino e di fare una bella partita fino a che arriva Carmine tanto ce l'abbiamo qua e giochiamo qui per passare un po' il tempo comunque qui dobbiamo dire che in queste zone c'è sempre questa nebbia abbiamo percorso questa autostrada in tutte le salse e anche stanotte la nebbia è legna sovrana ci sono i camionisti che dormono come sempre perché domani da questa notte non possono più viaggiare dalla luna di notte tranne quelli che portano merci deperibile guardate qui questo è il nostro personaggio